Tornano a bruciare i pendigli al ponte del Costone tra i comuni di Casnigo e Ponte Nossa. Le fiamme sono divampate attorno alle 12.30 di questa domenica 1 febbraio. Sul posto sono subito giunti i vigi del fuoco del distaccamento di Crusone e i volontari di Gazzaniga, assieme a loro i volontari dell'antincendio boschivo di Ponte Nossa. Il vento ha messo a dura prova le opere di spegnimento da terra, allargando in pochi minuti il fronte dell'incendio. È stato così necessario l'intervento dell'elicottero della regione Lombardia, che subito ha provveduto ad arginare le fiamme. I vigili del fuoco stanno lavorando per verificare quali sono le origini dell'incendio, con ogni probabilità dolose.